Con il Bastia che corre, Angelana e Cannara non possono perdere ulteriori punti per strada. E' questo il tema della sfida del Migaghelli che insieme a Sanzisto e Subasio probabilmente disegnerà l'avversaria più accreditata degli uomini di Grilli. Rispetto a Narni, Cardinalio ritrova vent'anni ma perde De Santi, San Malato e Licastro, questo ultimo svincolato in settimana. Nel Cannara esordisce in mezzo al campo il neocquisto Bernardini. Per il resto c'è Mattia in difesa al posto dell'infortunato Pulci e Baglioni sostituisce a destra Camilletti. Arbitra Gentile di Foligno, il primo squillo è dell'Angelana, vent'anni calcia la punizione e Ciurnelli interviene chiamando al miracolo avvicinato Battistelli. Due minuti più tardi, sempre su palla inattiva, ci prova Confessore che in spaccata non inquadra la porta. E' un buon momento questo avvio per l'Angelana e al ventitresimo Polidori mette il cross in mezzo. Il contatto Confessore e Gerarchini fa gridare gli Angelani al rigore, la parola va alla Moviola. Quando si mette in moto in Cannara però è grande lo spavento per i tifosi giallorossi. Fondi al venticinquesimo parte sulla destra e mette al centro per Di Giuseppe, il cui movimento e sul seguente tiro colpiscono il palo spaventando non poco Tano. A trovare il gol è però all'Angelana, dieci minuti più tardi al trentacinquesimo Confessore prende la palla in zona arretrata, prende il corridoio per vent'anni che ci si infila e di sinistro batte Battistelli per l'uno a zero. Nella ripresa, dopo un primo tempo abbastanza remissivo, il Cannara prende stabilmente residenza nella metà campo dell'Angelana. Al sesto un 1-2 non riuscito tra Raccichini e Di Giuseppe manda comunque al tiro Fastellini che però non inquadra la porta. 12 minuti più tardi Raccichini spostato dalla fascia sinistra al centro prova a sorprendere Tano da lontano ma il giovane portiere giallorosso risponde presente. In quest'istante della partita l'Angelana è tutta nelle ripartenze orchestrate da vent'anni di Domenico Antonio, proprio quest'ultimo al sedicesimo, chiede il rigore per un contatto in area cannarese. A voi la parola. La beffa per i giallorossi è doppia perché due minuti più tardi il Cannara trova il pari. Raccichini mette in mezzo, Taccucci la devia quel tanto che basta per ingannare il proprio portiere Tano. La palla di Raccichini sembrava diretta in porta quindi il gol è comunque da attribuirsi al centrocampista cannarese. È un momento in cui l'inerzia sembra essere dalla parte del Cannara tant'è vero che Farsi aggiunge la velocità di Anselmi sulla fascia per aumentare il peso offensivo della sua squadra. Ma è lo stesso Anselmi a rovinare i piani del proprio allenatore quando al ventisentesimo interviene così su Bartolini e l'arbitro è costretto ad estrarre un sacrosanto cartellino rosso. In superiorità numerica l'Angelana cerca e trova subito la rete del nuovo vantaggio. Al minuto è il trentunesimo, vent'anni dalla destra, si libera e crossa al centro per Polidori che di testa batte Battistelli. Il Cannara non ci sta e prova a reagire. Al trentasettesimo ci prova il entrato di Santis da fuori. Ma Tano para in bello stile e nel contropiede. Sul seguente Di Domenico Antonio lancia a vent'anni, il cui sinistro però è ben rispinto da Battistelli. È la prima delle occasioni che l'Angelana avrà in ripartenza per fare il 3 a 1. Al quarantaduesimo ci prova Polidori da fuori, la palla termina altro. E al quarantasettesimo e al quarantanovesimo è sempre Di Domenico Antonio che prima trova Battistelli pronto in uscita bassa. E poi al quarantanovesimo, negli ultimi secondi della gara, colpisce il palo. Vince l'Angelana dunque per 2 a 1 che si riporta in seconda posizione accorciando sul Bastia. Per il Cannara è la terza sconfitta nelle ultime quattro partite di un'ultima mesata davvero nera dal punto di vista dei risultati. Ma sì, abbiamo subito un gol, fra virgolette un autogol, una situazione abbastanza casuale. Sono colpi che potresti anche accusare forte. Invece questo è un ulteriore complimento che devo fare ai miei ragazzi perché si è visto subito dalle loro facce che ripartivamo pensando che avevamo subito una situazione, un episodio. Ma la volontà era quella di cercare proprio di vincere la partita senza farsi distrarre o attrarre, fra virgolette, assorbire dalla delusione che avevamo avuto. La squadra oggi ha fatto la squadra e gli devo fare tanti complimenti. Anche perché davanti una vera e propria lepre sembra che non ci sia. Ma a dire questo, a me interessa vedere tutti i giorni e tutte le volte con le più possibili cose di mio gradimento. Vedere una squadra che si esprime da squadra per me è molto. Poi dopo tutto il resto diventa una conseguenza, ma non parlo della classifica, parlo delle partite. Ci sono vittorie e vittorie, ci sono sconfitte e sconfitte. Non si può, anche se alla fine conta il risultato, ma ridurre tutto a questo. Io credo che i ragazzi oggi hanno fatto veramente una grossa partita della squadra.